Un'opera attesa da più di 15 anni dai residenti di Varrovina di Bassano, al Via Litter per la sistemazione della piattaforma sportiva, quella che può essere definita la piazza della frazione. Subito si pensava che si trattasse solo di un ammaloramento del piano calpestabile, ma dopo esami più approfonditi anche con il genio civile, ci si è accorti che la situazione dell'area era molto seria. Abbiamo appreso che c'è una situazione sottostante a questa piastra che non è sicura dal punto di vista idrogeologico, quindi il progetto è diventato più complesso, da una cifra iniziale stimata di 350 mila euro siamo arrivati a 1 milione e 20 mila euro di costo del progetto. Il lavoro sarà importante ma andrà a finalmente assolvere e mettere in sicurezza questa parte di Varrovina. Noi lo aspettavamo da veramente tanti anni e ci sono state fatte nel corso degli anni tantissime promesse, però finalmente vediamo insomma la luce in fondo al tunnel e vediamo realizzata questo nostro grande obiettivo, anche perché è l'unico luogo di aggregazione per i ragazzi, per gli anziani, per le scuole specialmente, che usano come attività fisica e quindi viene veramente utilizzato molto. Approvato il progetto esecutivo e la cifra necessaria a disposizione, anche grazie a un contributo di 548 mila euro da PNRR, ulteriori 51 mila da contributo statale e 420 a fondo di bilancio, a breve verrà avviata la gara e i lavori inizieranno a primavera.